Il sindaco Armelao chiama l'ANAS e chiede un incontro a breve. Il rifacimento del ponte translagunare sul canale delle Trezze è un tema troppo delicato per Chioggia per rinviare ulteriormente un confronto e soprattutto evitare che si moltiplichino greda di allarme sui rischi per l'economia locale che una sua chiusura comporterebbe. Nelle scorse ore era infatti intervenuto il portavoce dell'Associazione Spedizionieri Maritimi, Tommaso Sitran, che nel commentare come l'ANAS avesse reso noto l'autorità portuale che, salvo contattempi, il prossimo anno darà corso al totale rifacimento del ponte sulla Romea, operazione che vedrebbe nuovamente imposto il divieto di passaggio per mezzi pesanti oltre le 44 tonnellate, i quali fino al termine dei lavori valutati in oltre un anno non potrebbero più raggiungere il porto commerciale che richiedeva dunque la paralisi. Dall'autorità portuale non giunge al momento alcun commento, mentre ha voluto fare chiarezza il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, che ha spiegato come dopo il crollo del ponte Morandi a Genova ANAS abbia avviato una verifica sullo stato di manutenzione di tutti i ponti e viadotti d'Italia. La strada di Romea è ovviamente interessata da queste indagini, come visto per il ponte Subrenta e nel 2020 per il ponte delle Trezze del Translagunare. Tutti i prossimi programmi di manutenzione, proseguito al Melao, saranno assolutamente da coordinare con l'amministrazione comunale per creare il minore disagio possibile a residenti e pendolari e al settore agricolo, portuale e turistico, considerando anche la stagione estiva. Afferma di aver già contattato ANAS per fissare a breve un confronto diretto sui progetti, sulle reciproche esigenze, per verificare i periodi e soprattutto le tempistiche di durata dei lavori di manutenzione, cercando che gli interventi vengano svolti nel minor tempo possibile e con tutto il personale a disposizione. Tre anni fa, proprio a causa del limite delle 44 tonnellate, il crollo degli imbarchi e degli sbarchi aveva abbattuto le voci attive dello scalo mercantile, portando le aziende ad imporre ferie forzate e casse integrazione. Una soluzione auspicata dagli spedizionieri consiste nella creazione di terrapieni provvisori accanto ai tratti di ponte da ricostruire. Chioggia non può restare isolata per più di un anno.